Miei cari, eccoci qua, benvenuti e ben ritrovati soprattutto qui sul canale, qui su The Zion Theory. Io sono ovviamente Spazio, oggi si va a chiudere un po' il cerchio di quello che è stato lo scontro, mettiamola in questi termini, fra le due serie più attese dell'anno, insomma, parliamoci chiaramente, ovvero gli Agnelli del Potere e House of the Dragon. Si va un po' a chiudere il cerchio, così cerchiamo di porre, insomma, porre, mettere un punto, ecco, a questa contesa, se contesa si può chiamare, o comunque semplicemente di smettere di parlare di queste due serie, per quanto, ovviamente, abbiano attirato intorno, diciamo, intorno a loro grandissima attenzione, grandissime, grandissime aspettative. Se ben ricordate, infatti, la scorsa settimana io ho fatto un video simile a questo nel titolo, in cui parlavo di ciò che non ha funzionato per quanto riguarda gli Agnelli del Potere, mentre qui, invece, già si intuisce un po' quella che è stata la mia preferenza, fra le due produzioni, parliamo di ciò che ha funzionato in House of the Dragon. Prima di farlo, però, ragazzi, vi ricordo le solite cose brevemente, ovvero iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, un piccolo gesto, come dico sempre, di grande importanza, comunque, per la crescita del canale. Altrettanto importante è lasciare un like, qualora il contenuto possa essere di vostro gradimento, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porto qui su The Zion Theory, e qui sotto trovate i collegamenti ai miei canali social, vi consiglio in particolar modo di seguirmi su Instagram, che è il social che seguo un po' di più. Fatte brevemente, appunto, le premesse del caso, parliamo di questa serie di House of the Dragon e cosa mi ha convinto rispetto, invece, a ciò che, appunto, non mi ha convinto per quanto riguarda gli Annelli del Potere. Sapevamo, per fare una breve introduzione, che queste due serie avevano grandi aspettative alla vigilia, ma soprattutto si portavano dietro grandi dubbi. Da una parte, infatti, House of the Dragon si portava con sé tutta la delusione che avevano manifestato i fan in seguito al finale di stagione del Trono di Spade, un finale di stagione assolutamente non all'altezza rispetto, soprattutto, alle primissime stagioni del Trono di Spade di grandissima qualità, un finale che ha deluso completamente tutti per proprio mancanza di profondità, mancanza di idee e frettolosità nel cercare di strutturare un finale degno di nota, ma, appunto, poi i propositi degli showrunner si sono andati, diciamo, a farsi benedire perché, effettivamente, è stato un finale di stagione assolutamente deludente. Per quanto riguarda, invece, gli Annelli del Potere, sappiamo, e ne abbiamo già parlato per l'appunto nel video della settimana scorsa, che i dubbi più grandi erano legati, comunque, a quello che poteva essere il rispetto nei confronti di un materiale di partenza così importante nell'immaginario letterario collettivo e, soprattutto, per quanto concerne quella che è stata l'eredità che la trilogia capolavoro di Peter Jackson ha lasciato, insomma, ai posteri. Per cui c'erano grandi dubbi, soprattutto per la qualità, ovviamente, infinita dei lavori di Tolkien e la qualità altrettanto infinita, insomma, della trilogia di Peter Jackson. E se in un caso, diciamo, non c'è stato, almeno a mio avviso, un lavoro appropriato, comunque degno nei confronti di tutto ciò che ho appena detto, nei confronti del materiale di partenza, eccetera, eccetera, per quanto riguarda gli Annelli del Potere, e vi invito a recuperare il video, appunto, della settimana scorsa, nel caso di House of the Dragon bisogna, invece, subito, diciamo, parlare del fatto che i dubbi che c'erano alla vigilia sono stati, e qui ci tengo sempre a ribadire, opinione mia personale, poi fatemi sapere anche la vostra, sono stati subito dissipati, sono stati subito cancellati, già dalle primissime puntate, già dai primi minuti, in cui veniamo proiettati all'interno di questi nuovi intrighi, intrallazzi di corte, che fin da subito ci fanno capire come il livello di scrittura, il livello di regia accompagnato da una recitazione in alcuni interpreti, soprattutto di grandissimo livello, ci conferiscono, ci fanno percepire una profondità, una cura dei dettagli decisamente migliore rispetto, appunto, agli Annelli del Potere. Ma detto questo, ragazzi, non voglio continuare a fare questo confronto, ma voglio concentrarmi su quelli che sono stati, appunto, i pregi e le cose che ho apprezzato in House of the Dragon, mettendo da parte, appunto, gli Annelli del Potere, perché, come ho detto tante volte, rispetto assolutamente coloro i quali hanno apprezzato la serie, il mondo è bello perché è vario, quindi ognuno ha la sua, e poi parliamoci chiaro, alla fine, ognuno guarda ciò che gli piace, ecco, poi ci sono delle cose obiettive, magari su cui si può parlare, ma non mi va poi di continuare, ecco, queste discussioni, per cui mi voglio concentrare, come giusto che sia, su quello che mi è piaciuto di House of the Dragon, e riprendendo il discorso di poco fa, credo che le cose più importanti siano state, indubbiamente, una qualità della scrittura e della regia assolutamente degne delle primissime stagioni del Trono di Spade, forse anche con qualche guizzo, con qualche guizzo in più. Un aspetto fondamentale, inoltre, è stato proprio il voler andare a ripercorrere le strade vincenti delle prime stagioni del Trono di Spade, o comunque andare a ripescare e a mettere in piedi quelle che sono state le atmosfere, quello che è stato lo spirito che sempre ci è piaciuto della serie, e in generale, comunque, lo spirito che accompagna le opere di Martin, quindi un rispetto nei confronti di ciò che ha rappresentato e rappresenta tuttora l'opera di Martin e un qualcosa, una produzione, una prima stagione che si avvicina molto alla qualità delle prime del Trono di Spade. Avvertiamo, infatti, sin da subito, ragazzi, comunque, al netto di qualche difetto, di qualche, magari, buco temporale, di qualche difetto nelle decisioni, nelle motivazioni che, diciamo, portano i personaggi a compiere un'azione, anziché un'altra, una profondità nella caratterizzazione degli stessi personaggi che ci colpisce, che ci coinvolge. Avvertiamo subito una certa empatia o simpatia, antipatia, nei confronti dei vari personaggi che vediamo di volta in volta apparire sullo schermo. E questa era stata una grandezza, no, del Trono di Spade, nelle sue primissime stagioni, in cui ogni personaggio sembrava veramente esistente, veramente sembrava reale, insomma, potevi quasi toccarlo, le motivazioni, i pensieri che aveva ogni singolo personaggio all'interno dell'opera e questa cosa si ripropone anche in House of the Dragon, dove, per l'appunto, da Reviserys a Daemon, a Rhaenyra e tanti altri, avvertiamo le motivazioni, le sensazioni, i sentimenti, le emozioni di ognuno di essi. E tutto ciò, ovviamente, dov'è che si percepisce? Nella recitazione magistrale degli attori, su tutti ci ricordiamo un pa' di consinda in Reviserys, assolutamente straordinario, ma in molti, e direi a ragione, sono stati affascinati dalla figura di Daemon Targaryen per l'interpretazione proprio di Matt Smith, ma anche Ray Sifans nei panni di Hottie Tower, la stessa Emma Darcy nei panni di Rhaenyra, insomma, tanti attori, tante interpretazioni di spessore che ci hanno avvicinato ai personaggi e grazie a che cosa? Sicuramente alla bravura degli attori, ma come nello sport, diciamo, quando una squadra è ben diretta, è ben allenata, è ben gestita, anche i vari interpreti poi riescono a rendere al meglio. E stessa cosa si può dire per un cast con un regista, showrunner, eccetera, eccetera, significa che c'è stata attenzione per ogni singolo dettaglio, o comunque grande attenzione, il che ha portato poi a, diciamo, a mettere in risalto questi attori, a mettere in risalto le loro interpretazioni. Una grande recitazione dei personaggi scritti bene, una storia scritta bene, perché ogni singolo episodio comunque ha saputo coinvolgerci, ha saputo regalarci degli spunti interessanti, degli spunti che comunque ci facevano restare molto attenti e concentrati su quello che accadeva, perché sapevamo che poteva succedere qualsiasi cosa, sapevamo che poteva esserci un evento in grado di stupirci, sapevamo che una scelta, una decisione da parte di un personaggio poteva rappresentare una sorpresa altrettanto importante. Inoltre c'è da dire che la regia di alcuni episodi è stata veramente magistrale, alcune sequenze sono state veramente ben dirette, molte scene sono state realizzate veramente bene, con dovizia di particolare, o comunque con grande attenzione, soprattutto l'ultima scena dell'ultimo episodio, lo scontro fra i draghi di Luke e Imond, che poi ha portato a quel colpo di scena finale. Tante insomma sequenze, tante situazioni che ci hanno lasciato col fiato sospeso. Un'altra scena importante è stata l'entrata di Re Viserys nella Sala del Trono, con il bastone, con grande fatica, quando ha saputo diciamo avere quell'ultimo guizzo di energie e di vitalità per sedersi sul trono. Tante scene che hanno impattato a livello emotivo, ed è proprio lì che comunque il mondo di Martin, le serie, insomma le stagioni migliori del Trono di Spade, hanno saputo coinvolgerci a livello emotivo, di emozioni, di sensazioni, e in questo House of the Dragon sicuramente le emozioni non sono mancate. Un grado di coinvolgimento quindi molto alto, che almeno a mio parere, poi ha portato alla fine dell'ultimo episodio, all'ultimo secondo dell'ultimo episodio, a dire, a farmi dire che insomma ne volevo ancora di più. Non volevo che finisse lì, volevo sapere come invece poteva proseguire la serie, dopo appunto gli ultimi eventi a cui avevamo assistito. Quindi quella volontà di andare avanti, di vederne ancora di più. E questo è un grande merito proprio sotto tanti punti di vista, un grande merito che va ad abbracciare tutti quegli ambiti, tutte quelle situazioni che abbiamo appena descritto, da appunto una scrittura importante, una regia altrettanto ben curata, dei personaggi e degli attori che si incastravano e si sono incastrati alla perfezione. Per cui, miei cari, nel complesso secondo me House of the Dragon ha fatto centro. Sì, ci può essere stato qualche difetto, però nel complesso secondo me non si può non dire che questa sia stata un'ottima serie, un'ottima serie sotto diversi punti di vista e che ci auguriamo possa proseguire, diciamo, su questi standard di qualità anche per quanto riguarda la seconda stagione, che da quello che sappiamo dovrebbe approdare sui nostri schermi a partire dal 2024, quindi ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare ai noi. Però la cosa che fa piacere è sicuramente aver visto un ritorno alla ribalta, insomma un ritorno in grande stile per quanto riguarda il mondo, diciamo, elaborato, pensato da George Martin. Fatemi sapere la vostra ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, insomma, se siete d'accordo con me oppure no. Quindi, come sempre, scrivete qua sotto nel box dei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti voi da Spazio.